Musica Nel 2017 in Toscana gli incendi hanno distrutto 2000 ettari di boschi e vegetazione varia, un bilancio drammatico per la regione più boscosa della penisola, il vero polmone verde dell'Italia. Da anni la regione toscana è in prima linea nell'emergenza incendi. Quest'anno i primi mesi hanno registrato un sensibile calo di incendi rispetto all'anno prima, una cinquantina contro i 300 del 2017, ma l'estate è cominciata e già si sono verificati i roghi importanti in Lucchesia, all'Argentario, in provincia di Pisa. Abbiamo chiesto all'assessore regionale all'agricoltura e alle foreste, Marco Remaschi, come sta andando questa stagione 2018. Il clima sicuramente nel 2018 ci aiuta, è stata una stagione piovosa e quindi abbiamo numeri che sono in linea con annate precedenti, per esempio il 2013. Sicuramente sotto questo aspetto ad oggi la situazione è sotto controllo. Alla luce del bilancio pesantissimo dell'estate 2017, quali strategie ha messo in campo la regione per questa estate 2018? Abbiamo lavorato sempre sull'aspetto legato all'organizzazione, a migliorare in base alle esperienze precedenti, a fare un lavoro di miglior coordinamento e a stabilire chiaramente misure di intervento che siano ancora più efficaci, perché la rapidità dell'intervento è un fattore determinante nel limitare danni di carattere ambientale. Per fronteggiare l'emergenza incendi, la regione toscana si è dotata di un piano operativo regionale anti-incendi boschivi a cui fa riferimento un'imponente struttura organizzativa con articolazioni a livello provinciale che può contare su una dotazione di 10 elicotteri, su 300 operai provinciali e su oltre 4.000 volontari, il tutto coordinando gli interventi con i vigili del fuoco e con i carabinieri forestali. Il tutto parte dal metodo nel quale ci sono gli avvistamenti, perché come sappiamo l'aspetto di dover intervenire celermente, arrivare prima possibile sull'incendio, permette una miglior esecuzione dei lavori che vengono fatti peraltro anche in sicurezza. E poi puntiamo molto sulla formazione del personale, perché avere personale formato rispetto alle varie tipologie di intervento è un altro aspetto indubbiamente fondamentale nella buona gestione degli incendi boschivi. Ma quali sono i comprensori maggiormente a rischio incendi in Toscana? Storicamente sicuramente, per esempio, la mia provincia, la provincia di Lucca, è una provincia esposta sia per gli aspetti legati alla superficie boscata che anche ad altri fattori, però un po' tutta la Toscana. Quest'anno sicuramente, come dicevo prima, siamo soddisfatti non solo per l'aspetto climatico, ma anche perché fino ad oggi siamo riusciti a tenere sotto controllo anche con l'ordinanza che abbiamo emesso di divieto di abbruciamento dal primo di luglio fino al 31 di agosto di materiale vegetale a, diciamo così, diminuire sensibilmente gli incendi colposi. Se si pensa che fino al 30 di giugno noi abbiamo avuto di quest'anno 51 incendi su tutta la regione toscana contro gli oltre 300 dell'anno passato e che la superficie boscata abbruciata è di meno di 25 ettari, il che vuol dire meno di mezzo ettaro a incendio, beh, la dice lunga su come funziona l'aspetto organizzativo. È vero che siamo all'inizio del mese di luglio, è vero che ancora abbiamo di fronte tutta l'estate, beh, però noi pensiamo che possa essere, facendo tutti gli scongiuri del caso, un'annata positiva sotto questo aspetto. Oltre a mettere in atto gli interventi di lotta attiva agli incendi, la regione toscana sta lavorando anche sul fronte della prevenzione. Questo è un po' il nuovo filone sul quale stiamo portando avanti investimenti, lo abbiamo fatto sottoscrivendo un protocollo con la fondazione Pau Costa, che è una fondazione spagnola che ha molta esperienza in questo settore, lo abbiamo fatto con formazione anche con università statunitensi, analizzando fino in fondo quelle che sono un po' le tematiche di come si sviluppano gli incendi anche in altri paesi che hanno prodotto danni devastanti. Questo è un fenomeno da non sottovalutare, vista la densità boscata della regione toscana e pertanto cerchiamo di non lasciare niente di intentato. Le opere di prevenzione sono opere che permettono di fare piste di accesso, di fare piste parafuoco, di poter arrivare ancora prima nei luoghi magari dove già negli anni passati ci sono stati fenomeni che hanno distrutto determinati territori e quindi tutto questo ci permette di avere un maggior controllo del nostro territorio. Come già ricordato dall'assessore Remaschi, la regione ha emanato un'ordinanza che vieta di accendere fuochi in tutta la regione dal 1 luglio al 31 agosto. Qual è stata la risposta della cittadinanza? Come sempre c'è bisogno di informare i cittadini e anche di formarli, di informarli perché spesso non hanno la possibilità di sapere quelli che sono i provvedimenti che noi emettiamo e quindi c'è bisogno di una stretta collaborazione con i vari municipi della regione toscana per fare in modo che non si commettano infrazioni. Poi dobbiamo veramente far capire ai cittadini la pericolosità di certi fenomeni in determinati momenti. Si tratta di luglio-agosto, si tratta di momenti nei quali le temperature sono parecchio elevate, si tratta di momenti nei quali anche la ventilazione spesso produce effetti devastanti e talvolta anche in buona fede si accendono dei fuochi soltanto per abbruciare, voglio dire, sterpaglie che sono intorno alle abitazioni oppure anche dovute a potature. Noi si dice, si punta chiaramente a dire grande attenzione, non facciamo abbruciamenti in questo periodo perché è estremamente pericoloso. Facciamoli o prima del 30 di giugno o dopo il 31 di agosto. Quindi informazione ma anche formazione perché spesso come abbiamo visto negli anni passati certe persone che hanno fatto abbruciamenti, il fuoco è scappato e peraltro l'anno passato ci sono stati due o tre morti perché persone chiaramente che si sono trovate a far fronte a situazioni non gestibili. Quindi è un fatto anche di pericolosità per le persone stesse e anche per le persone che vivono in ambienti circostanti. In tutto questo qual è il ruolo dei comuni? È un ruolo importante, noi ne abbiamo parlato con Anci, come dicevo il ruolo dei comuni è quello di informare i cittadini e quindi di non vessare, non è che noi vogliamo fare multe contravvenzioni a chi contravviene all'ordinanza, è anche quello di vigilare e di fare in modo chiaramente che ci sia un controllo del territorio. La Regione Toscana ha in programma altre iniziative sul fronte antincendi per i prossimi mesi? Sì, vogliamo proseguire con più iniziative, valorizzare ancora di più il lavoro che sta facendo il centro della Pineta dei Tocchi nel comune di Monticiano a Siena dove passano annualmente circa mille persone per corsi di formazione e aggiornamento continuo. Poi come dicevo dobbiamo portare avanti nel corso dei prossimi due anni tutta una serie di interventi di circa 4 milioni di euro spalmati sul territorio regionale che sono solo l'inizio di questo tipo di percorso. Quindi nuovi lavori di prevenzione, nuove opere di manutenzione e anche un miglioramento e un potenziamento della flotta dei mezzi che noi abbiamo sia per quello che riguarda gli elicotteri sia per quello che riguarda anche i pick up che devono essere attrezzati, tutte le attrezzature di pronto intervento che più efficaci sono, più funzionali sono e più ci permettono di poter essere efficaci e anche non va scordato di mettere le persone che intervengono in questi interventi nelle condizioni di massima sicurezza.